Io vorrei fare un omaggio alla signorina Diana, perché questo libro è molto importante, l'ha scritto un pediatra, Vittoria Vizzetti, che dietro ci sono i problemi di nonni, i problemi che vengono causati al minore dopo le separazioni, c'è la passe, c'è tutto. Il nome dei figli, questo è il titolo, grazie intanto per questo. Grazie a voi.